Benvenuti a questo nuovo video. Oggi parleremo delle ultime rivelazioni di Maria De Filippi su Ida Platano e Mario Cusitore. Scopriamo insieme cosa è successo durante l'estate. Maria De Filippi non è solita parlare dei protagonisti di Uomini e Donne, ma per Ida Platano e Mario Cusitore ha fatto un'eccezione. La conduttrice, infatti, ospite a Radio DJ dal suo amico e collega Rudy Zerbi, ha voluto raccontare quello che è successo tra Ida e Mario dopo la fine della scorsa stagione del Trono Classico. Queste le parole della conduttrice. Lui ha provato a riconquistarla per tutta l'estate, ma lei ha detto di no. Ida Platano e Mario Cusitore potrebbero formare una coppia top secret, sulla base di una serie di indizi curiosi che spuntano sui due protagonisti di Uomini e Donne. L'ex tronista e il corteggiatore hanno condiviso a mezzo social delle stories sospette di un riavvicinamento, dopo che lui era stato avvistato all'uscita di un B&B con una terza donna, una segnalazione che Ida non aveva perdonato al corteggiatore, tanto da mandare all'aria il trono condotto alla ricerca dell'amore, chiudendolo anzitempo. Ed è una serie di dettaglio che ora fa pensare e ben sperare i fan del duo ad un ritorno di interesse e ad un amore top secret. Una rivelazione sorprendente da parte di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere la ripresa delle registrazioni per scoprire se Ida Platano e Mario Cusitore torneranno nel talk show Mediaset. Grazie per aver guardato. Se vi è piaciuto il video, lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Ricordate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati su tutte le novità. Alla prossima!